Non vince, non segna, da nove partite il Gravina non gioisce per un gol da due mesi e mezzo, dal 3-0 inflitto al Fasano nel derby giocato al vicino lo scorso 20 gennaio. Poi cinque pareggi, tutti per 0-0 e quattro sconfitte, l'ultima onorevole per 1-0 allo Iacovone contro la capolista Taranto prima di Pasqua. Piange e non può essere diversamente alla luce della recente assinenza da successi alla classifica di Murgiari, penultimi con 17 punti all'attivo, uno in più della cenerentola putiolana che sarà avversaria della squadra allenata da Marco Gaburro proprio domani nel recupero della diciannovessima giornata di Serie D. Fischio d'inizio allo stadio Domenico Conte di Pozzuoni, fissato alle ore 15. Partita non importante ma molto di più per le ambizioni salvezza del Gravina. Servirebbe, inutile nasconderlo, una mezza impresa per confermare la categoria nazionale già al termine della stagione regolare. Farlo ai play-out invece è sicuramente un obiettivo più alla portata dei murgiani, a meno due dal portici ma anche tre gare in meno giocate rispetto ai campani. Con 13 partite ancora da disputare dai gialloblu compresi gli altri due recuperi, in casa con il Real Aversa e in trasferta con il Casarano, tutto è possibile. Fondamentale però sarà non perdere domani contro la putiolana per evitare di scivolare all'ultimo posto. Doveroso tuttavia provare a segnare e a vincere sfatando un doppio tabù che ormai dura da troppo tempo. Gaburro intanto ha concesso il riposo ai suoi solo nella domenica di Pasqua. Ieri la squadra infatti ha trascorso la Pasquetta allenandosi sul campo. Stamane la partenza per la campagna dopo la seduta di rifinitura. Il tecnico del Gradina intanto non avrà a disposizione lo squalificato Gilli. Pacchetto arretrato affidato a De Gaulle Perez. Possibile una maglia da titolare in mezzo al campo per Toschic. Niente male davvero all'esordio il Montenegrino nello spezzone di gara. Giocato a Taranto di fronte ci saranno gli ex Riccio e Catinali. Con quest'ultimo che ha cominciato questa stagione proprio al vicino. Zero fronzoli, tanta sostanza. E di questo che avrà bisogno il Gradina contro la Putiolana per non compromettere ulteriormente una stagione già sin troppo complicata.